Michele De Pascale è il nuovo sindaco di Ravenna. Dopo ore di incertezza, in una giornata che ha registrato un crollo di affluenza alle orne, il successore di Matteucci si è affermato con un 53,32% di voti, mentre lo sfidante Massimiliano Alberghini si è affermato a 46,68%. Saremo sempre dalla parte di chi ha un diritto in meno. Queste le prime parole di De Pascale, che ha voluto fin da subito ricordare l'amico Enrico Liverani. Devo dire grazie. L'abbiamo detto dal primo giorno, era un risultato tutt'altro che scontato. L'abbiamo ottenuto con umiltà, passione, energia, che era la nostra parola. L'abbiamo ottenuto, diciamo, senza mai strumentalizzare la vicenda più triste che ha coinvolto la nostra città. Ma ora che la campagna elettorale è finita, noi questa vittoria la dedichiamo tutti ad Enrico. Un primo commento a caldo della vittoria? Un risultato importante, soprattutto se visto in un trend nazionale molto negativo per il centro-sinistra. Abbiamo detto fin dal primo giorno che la città era contendibile. Questa vittoria l'abbiamo guadagnata, voto per voto, fiducia per fiducia, cittadino per cittadino, dicendo parole nuove, parole di cambiamento. Gli ultimi 15 giorni sono stati 15 giorni molto pesanti, con polemiche molto forti, alcuni anche gravi che non sono arrivati agli onori della cronaca. Adesso basta, riuniamo la città dal primo giorno, da domani pomeriggio, stamattina la famiglia ha lavoro per Ravenna, per la chimica, per la stagione balneare, che ha avuto problemi gravi, per il porto. Lo dico anche agli altri candidati sindaco, è finita la stagione delle polemiche, inizia la stagione del lavoro per Ravenna. Grazie.